Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Come anticipato nella scorsa lezione quello che faremo quest'oggi è questo Creeremo un meter, vale a dire un indicatore del volume che prenda informazioni da una traccia audio e ci faccia vedere visivamente il volume della suddetta traccia audio Il procedimento è abbastanza semplice anche se sfrutteremo delle tecniche un po' più avanzate di quelle visto fino ad ora che non spiegherò fino in fondo Perché? Perché per realizzare il meter che stiamo per creare utilizzerò alcuni concetti sulla trasparenza e sulle maschere e sulla luminanza che approfondiremo meglio e con i tempi dovuti nel corso avanzato di After Effects Questa è una lezione transitoria tra il corso base e il corso avanzato Questi video tutorial sono transitori e hanno lo scopo di alzare leggermente l'asticella della complessità per poi accompagnarvi nelle grandi complessità che esploreremo nella seconda parte dell'intero corso dedicato appunto ai concetti avanzati di After Effects Stiamo alzando piano piano l'asticella se non si fosse capito Però dicevo, quello che noi dovremmo fare è molto semplice anche se i concetti che mostrerò non li spiegherò nella loro totalità Ok? Rimando alcune spiegazioni in un momento successivo dell'intero corso Da dove iniziamo? Beh, come sempre iniziamo da una nuova composizione Io ho scelto la classica composizione in HD 1920x1080 Voi se avete un computer poco performante abbassate la qualità e la risoluzione Potete lavorare per test a 1280x720 serenamente Non stiamo qui facendo grafica che abbia lo scopo di essere bella e di grande qualità Stiamo imparando un software quindi non spingete la vostra macchina oltre le proprie possibilità Non serve in questo momento Dicevo, creiamo una composizione e per iniziare il nostro tutorial creiamo subito un rettangolo Perché? Perché un rettangolo? Perché io voglio creare, come dicevo, qualcosa di simile a questo Quindi un meter, in ultima analisi, è un rettangolo Quindi inizio da una forma geometrica che sia un rettangolo Eccolo qua Chiaramente voglio colorarlo un po' come ho colorato questo meter Quindi con una sfumatura che vada dal verde al rosso Come fare? Bene, quando abbiamo parlato delle forme geometriche Vi ho detto che c'è la possibilità chiaramente di scegliere il tipo di riempimento Cliccando qui sulla voce riempimento Fino ad ora abbiamo lavorato con colori solidi Quindi per esempio con un giallo come in questo caso Ma potremmo voler scegliere un riempimento composto da una sfumatura lineare Cos'è una sfumatura lineare? Clicco su sfumatura lineare ed ecco la sfumatura lineare Sostanzialmente uno o più colori che sfumano l'uno nell'altro Per creare l'effetto arcobaleno per capirci Ok? Clicco ok Clicco ancora sul modificatore del colore E vado ad impostare la mia griglia La mia sfumatura, perdonatemi La sfumatura voglio che vada dal verde al rosso Quindi nel primo indicatore, questo qui in basso, scelgo il verde Nell'ultimo modificatore, quello a destra, scelgo il rosso E voi direte Ecco qua Come poter aggiungere altri colori? Ipotizziamo che io qui voglio passare per un arancione acceso Basta cliccare qui in basso, aggiungere un ulteriore modificatore Scegliere il colore desiderato Ed ecco che abbiamo un colore di transizione Quindi compongo la mia sfumatura come più mi aggrada E clicco su ok Ah, c'è un problema Questa sfumatura va da sinistra verso destra Come fare per mettere la sfumatura dal basso verso l'alto? Bene, guardate bene Abbiamo due maniglie Che io posso modificare all'occorrenza Per orientare la mia sfumatura Ok? Quindi un manipolatore, una maniglia in alto Una in basso E ho la mia sfumatura dal verde al rosso Oh, ora voglio creare l'effetto pixel Come in questo caso Quindi non voglio che la mia griglia sia continua Ma voglio una griglia interrotta Ok? Come se fosse composta da tanti led Che vanno a segmentare l'intero tracciato Come fare? Bene, sfrutterò Una griglia Una griglia come dice la parola stessa Altro non è che una griglia Ma invece di applicare l'effetto griglia Direttamente sulla forma geometrica qui creata Andrò a creare un nuovo livello Tinta unita Il colore è quello che preferite Io la chiamo griglia Anche qui il nome è totalmente a vostra scelta Clicco ok E do una tinta unita Su questa tinta unita applico l'effetto griglia Ok? Oh, questa griglia ovviamente è una griglia trasparente Quindi ci sono le righe orizzontali e verticali di colore bianco E il resto chiaramente è trasparente Voglio sfruttare questa proprietà La proprietà di questa griglia Appunto di essere formata da griglie da linee bianche Per segmentare questo rettangolo che ho creato Come fare? Bene Non entro troppo nei dettagli Ripeto, questo è uno di quei concetti che vedremo avanti Vi dico semplicemente che Accendendo il secondo bottoncino qui in basso Questo Espandi e comprimi il pannello Controlli trasferimento Ok? Abbiamo la possibilità di accedere alla colonna Mascherino traccia Cosa fa il mascherino traccia? Prende le informazioni della luminanza Della griglia In questo caso il bianco E lo sfrutta Le sfrutta queste informazioni Per creare trasparenza Nel livello forma che abbiamo creato Buah! Cosa ho detto? Eh, non si capisce Non vi preoccupate Non vi preoccupate Fate quello che sto facendo io Nella colonna mascherina traccia In corrispondenza del livello forma Quindi del rettangolo Chiamiamolo rettangolo per capirci Che ho appena creato Scelgo l'opzione Eccolo qui Mascherino luma Mascherino luma Che farà riferimento A livello griglia Cosa fa questo mascherino? Fa questo Vale a dire Le linee bianche della mia griglia Vengono usate Per creare L'opacità Nel mio rettangolo Vale a dire Dove Questo rettangolo Viene intersecato Dalle linee bianche Della griglia Ecco Si genera Opacità E quindi Sono visibili Tutto il resto È trasparente Come faccio a sapere Che è trasparente? Accendo L'opzione per vedere La griglia Della trasparenza Ed ecco qua Ok Il nero che vedete In realtà È trasparenza Ok Ricapitolando Ho inserito Una griglia Nell'oggetto A tinta unita Appena creato E ho Istruito After effect Per estrarre Il bianco Da questa griglia E creare L'opacità Sul rettangolo Che ho creato Questo grazie Al mascherino Traccia Impostato Come mascherino Luma Ok È un concetto Sul Mascheramento Sulla creazione Della trasparenza Che vedremo Questo nel corso avanzato È un po' complesso Quindi Ne parleremo meglio Più avanti Per il momento Datemi retta Va bene così Modifichiamo la griglia Perché noi non vogliamo Che il mio meter Sia in questo Questo modo Giocateci Io il mio consiglio È Fate quello che faccio io Ma perdete un po' di tempo Anche voi Per giocare Con queste opzioni Così più giocate Più capite cosa fanno Dicevo Modifico La mia griglia Per creare Una sorta di reticolato Ok Anche qui Non c'è una regola Io Posso fare un po' Quello che voglio E anche voi Dovete fare Quello che volete Ok Scegliete La versione Di questa griglia Che più vi aggrada Per me può andare Benissimo Questo Vedete Già assomiglia più A un meter Di un impianto Hi-Fi Di una volta Per esempio E per adesso Mi accontento così Come vi ho insegnato Tante volte Ci vuole ordine Quindi io I due livelli Che ho appena creato Li vado a raggruppare insieme In maniera tale Che mi formino Un unico livello In altre parole Faccio una precomposizione Seleziono i due livelli Vado nel menu Livello E scelgo Precomposizione Clicco Do un nome Lo posso chiamare Meter Per esempio Meter Audio Va benissimo E clicco su ok Ho ora I due livelli di prima Sono dentro A questa nuova composizione Che è Stata inserita Nella mia composizione principale Come livello singolo Ok Tutti i concetti Che abbiamo già visto Se qualcosa non vi è chiaro Tornate indietro Di qualche tutorial Abbiamo già parlato Della precomposizione Ok Cosa voglio fare adesso Voglio animare Questa Questo meter In maniera tale Che quando La traccia audio Che tra poco Inseriremo È silenziosa Sia completamente a zero Quando la traccia audio Ha molto volume Chiaramente Questo meter Deve salire Per indicarmi Che questa traccia È molto rumorosa Ok Come fare Come fare Sfrutteremo Un effetto Che abbiamo già utilizzato Nello scorso tutorial Quando abbiamo creato Le infografiche Di Trump Fate una capatina Nel mio canale YouTube C'è la playlist Sul corso di After Effects Verso la fine Ci sono quattro lezioni Sul come creare Un'infografica Animata Da un Excel esterno Da un documento Excel Esterno Ad After Effects In quel caso Abbiamo sfruttato La transizione Gli effetti di transizione Di After Effects In particolare La comparsa lineare Per creare Appunto Il movimento Lineare Delle barre Del grafico Che salivano Ok Noi faremo qualcosa Di simile In questo caso Ve lo mostro Utilizzeremo Questo effetto La comparsa lineare Per animare Appunto Questa barra In maniera tale Che quando c'è Dell'audio Questa barra Vada in su O in giù Ecco Sto facendo esattamente Tutto il contrario In maniera sincrona Con il nostro file sonoro Ok Faremo questo Per capirci Come poter agire Io voglio Intanto Poter estrarre Le informazioni Da un file audio Quindi Io ho già precaricato Qui Un file audio Lo porto Nella timeline E questo è un file audio Come faccio a sapere Che questo è un file audio Beh intanto Perché l'ho importato io Quindi so che questo È un file audio Un punto uav Fino a prova contrario È audio Poi perché Se io seleziono Questo livello E premo due volte La lettera L Di Livorno Sulla tastiera Ho la forma audio Quindi questo è Tutti gli effetti Un file audio Non è un file video Quindi posso Visualizzare già la forma E allineare L'inizio della mia musica All'inizio della composizione Ripeto Due volte il tasto L L L L E viene mostrata L'onda Del file audio Oh Dicevo Voglio estrarre Le informazioni Sull'ampiezza Della forma sonora Di questo audio Per poter animare Questo rettangolo O meglio L'effetto lineare Che ho impostato Su questo rettangolo Come fare? Bene Seleziono la traccia audio Tasto destro del mouse Sopra la traccia audio E scelgo La voce Assistente Fotogramma chiave Converti audio In fotogrammi chiave Cosa fa? Beh Fa quello che dice La parola stessa Converte l'audio In fotogrammi chiave Bah Clicchiamo Vedrete che viene creato Un nuovo livello NULL Vado a dire che Non verrà mai renderizzato È un livello Che noi abbiamo Qui solo come riferimento Ma se io vado Ad analizzare Quello che c'è dentro A questo nuovo livello Espandendolo Noterò che c'è Un effetto applicato E ho Canale sinistro Canale destro Ed entrambi i canali Se espando Entrambi i canali Trovo Una proprietà Chiamata cursore E se vado a vedere Queste proprietà Hanno tanti keyframe Questi keyframe Sono l'indicazione Del volume Della traccia audio Come faccio a saperlo? Intanto perché è a zero Quindi all'inizio Della mia traccia Il volume è a zero Ma se io vado avanti Vado ad analizzare Quello che Come si è modificato Questo cursore Vedo che È cambiato qualcosa 3.69 E se vado avanti Sto premendo il tasto Control Mentre trascino Per ascoltare Quindi LL Per visualizzare La forma audio Tenete premuto Il tasto Control Sulla tastiera E trascinare Per ascoltare L'audio Mentre andate avanti E indietro Nella timeline Dicevo Se io vado avanti E mi sposto Vedete che questo valore Cambia Ok? Ora è 5.34 Ecco In altre parole After Effects Ha estratto I dati Sul volume Mettiamola così Di questo Di questo canale Di questa traccia audio Per Creare dei fotogrammi Quindi ho dei fotogrammi Che io posso utilizzare Per animare Ok? Questa barra Beh in che modo? Non vi spaventate Dobbiamo ancora una volta Utilizzare le espressioni Ma questa volta È molto semplice Vado a cliccare Sopra Al Mitter audio Quindi Alla Nostra Al nostro Al livello Che contiene La forma Geometrica Del mio Mitter audio Espando Il Mitter audio Cerco Tra gli effetti La comparsa lineare Che ho inserito Prima E vado ad animare Il completamento Della transizione Tengo premuto Il tasto Alt Sulla tastiera E clicco Sul cronometrino Cosa accade? Accade Che viene inserita Un'espressione Non vi preoccupate Non dobbiamo scrivere Nessuna espressione Non c'è codice In questa lezione C'è molto codice Nella lezione Sull'infografica Quindi se volete Imparare qualcosa Sulle espressioni Anche qui Tornate indietro Di qualche tutorial E lì vi divertirete molto In questo caso Io voglio Prendere le informazioni Del Dei keyframe Appena generati Dalla traccia audio E inserirli Dentro a questo valore Come fare? Bene Nessun problema Intanto Clicco Su questa iconcina Ok? Ingrandisco Che altro Non è che una sorta Di lazzo Ok? E indico Ad after effect Che questo valore Qui Del completamento Della transizione Deve essere Dipendente Dai valori Presenti Dentro La proprietà Cursore Dei canali audio Che ho appena Inserito Dentro a questo oggetto NULL Detta semplice Cliccate su questo Quadratino Qui Su questo Lazzo E andate a cliccare Poi su A rilasciare il mouse Sulla parola cursore Ok? Bam Cosa è successo? È successo che L'espressione Si è modificata Ma la cosa ancora più importante È che il valore Del completamento Della transizione Ora è dipendente Da questi keyframe Ok? La prova qual è? Che se io vado avanti E indietro Dovrei poter vedere Questo cursore Muoversi In alto O in basso Voi direte Ah ma non sta succedendo niente Siete sicuri? Guardate Questo è il valore Ok? Del completamento Transizione Che è a zero Perché io mi trovo a zero Ma se io vado poco più avanti Vedrete Che questo Completamento Ora è a quattro Cosa vuol dire? Vuol dire che i dati ci sono E sono agganciati Ma sono troppo piccoli Per poter creare Una transizione Del cento per cento Ricordo che finché sto Allo zero per cento Non vedo nulla Quando alzo Questo Questo rettangolo Dovrebbe sparire Come posso aumentare I valori Di questa transizione? Bene Aggiungendo A questa espressione Che non dovete capire Ok? È l'espressione generata Quando abbiamo collegato Questo valore Con i keyframe Di prima Dicevo Basta che aggiungo Una operazione Matematica Banalissima Per Quindici In altre parole Io sto prendendo Le informazioni Che arrivano Da questi keyframe E le sto moltiplicando Per quindici Ok? Ah ecco Guardate Già qualcosa sta accadendo Il mio Cursore Si sta muovendo Ma c'è qualcosa Che non va Cos'è che non va? Un secondo Per pensarci Avete capito? Questo cursore Sta andando al contrario Vado a dire Quando Non c'è audio È totalmente pieno Quando l'audio Invece È tanto Il cursore Sparisce Io voglio il contrario Ok? Beh come posso fare? Dai ragioniamoci un attimo Un po' di matematica Io ho il valore Che parte da 100 Quando è Totalmente Nascosto Ed è 0 Quando è completamente visibile Come faccio ad invertire Questo valore? È semplice Basta che io Sottragga A 100 Il valore Del keyframe Cosa succede? Vediamo Torno indietro Mando in play Wow Ho ottenuto esattamente Quello che volevo Ok? Non so se è chiaro Il meccanismo Lo spiego Per chi magari Non avesse ben compreso Quello che ho appena fatto Rimuovo questa espressione E la utilizzerò più tardi Noi stiamo animando Questo parametro Il parametro Completamento Transizione Dell'effetto Comparsa lineare Ok? Cosa fa questo effetto? Quando è Allo 0% Mi mostra Il livello Quando questo effetto È al 100% Mi nasconde Il livello Il valore Di questo effetto Quindi da 0 a 100 Viene preso Da questi keyframe Ok? Ora Come abbiamo visto prima Questi keyframe Però Hanno un valore Molto basso Vanno da 0 a 5 A 6 Quindi Se io Mettessi questo valore Agganciassi questo valore Dentro Alla comparsa lineare Non avrei mai 100% Ecco perché Quando io Ho creato L'espressione Poc'anzi Quindi Nel completamento Della transizione Tasto alt E ho creato Questa Espressione Ecco perché Io ho moltiplicato Il risultato Per 15 Per fare in modo Di avere un valore Più alto di 5 Altrimenti Non avrei visto Questa Barra muoversi Qual è il risultato Però Se io Non sottraggo Questo valore Non sottraggo Accento Questo valore Il risultato è Che quando il valore Del keyframe Per esempio È 3,81 3,81 Viene moltiplicato Per 15 Quindi abbiamo Un valore Di circa 57 Ma Per come funziona L'effetto Transizione Di after effect Quando è 57 O quanto è 80 Il valore Va a nascondere Invece che mostrare Ok In altre parole Non ho l'effetto Di una musica forte Che mi fa Mandare In alto Ok L'indicatore Del volume O al contrario Quando ho molto volume L'indicatore sparisce Devo capovolgere Il risultato Quindi io Andrò a sottrarre Al totale Della percentuale Quindi a 100 Il valore Di questi keyframe Che ho moltiplicato Per 15 Per amplificarli Ok Adesso Il valore Dell'effetto Di una comparsa lineare È un valore Intanto Più alto Di 5 Quindi è visibile Ma soprattutto È il risultato Della sottrazione Da 100 In questo caso Di 57 Che è il numero Che risulta Dalla moltiplicazione Di questo valore Per 15 Ok Un po' contorto Quello che ho spiegato Mi ne rendo conto Spero che sia Che sia più o meno chiaro 3,81 Per 15 Fa circa 57 A 100 Sottrago 57 Ottengo 43 Ed è la percentuale Da inserire qui Per avere l'effetto Desiderato È contorto Lo so Non mi aspetto Che sia Perfettamente Intellegibile Quello che ho appena detto Ma se fate così Otterrete questo effetto Mando in play Et voilà Abbiamo ottenuto L'effetto desiderato Ora potete sfruttare Questo meccanismo Per animare un po' Quello che volete Io qui ho sfruttato La comparsa lineare Per assurdo Ma guardate Vediamo se riesco A fare qualcos'altro Se io avessi Deciso Di utilizzare Un effetto glow Ok Chiamato In inglese In italiano Bagliore Ok Ecco qua L'effetto bagliore Altro non fa Che creare Un bagliore Ok Diamo un po' Di esasperazione All'effetto Vediamo Se riesco a renderlo Più accentuato Va bene Più di così Non si può Ipotizziamo Di voler agganciare Questi keyframe A un parametro Come può essere Non so L'intensità del bagliore Ok Come devo fare Lo abbiamo già visto Scelgo La voce Che voglio A cui voglio Agganciare i keyframe Quindi abbiamo detto Intensità bagliore Alt Sulla tastiera E clicco Ho creato Un'espressione Sfrutto Questo selettore Per andarmi A cercare Ok Il valore Del cursore Che contiene I keyframe Del mio audio Quindi Clicco Cursore E adesso Questo Questo valore L'intensità bagliore Avrà il risultato Che proviene Dai keyframe Della mia traccia audio Ovviamente Moltiplico In questo caso Magari per 10 O anche per 5 Per avere un risultato Più visibile E a questo punto Il bagliore Sarà guidato Dai keyframe Chiaramente adesso È poco visibile Dovete giocare Un po' con i valori Vediamo se Ok Forse ho scelto Magari un parametro In cui si vede poco Però Questo valore Adesso è guidato Da questi keyframe Giocate Fate un po' di esperimenti Anche con altri effetti Vedete cosa esce fuori Nel prossimo video tutorial Faremo un'altra cosa Molto bella Faremo qualcosa Simile a questo Non utilizzeremo La tecnica Che abbiamo utilizzato Questa volta Nel prossimo video tutorial Utilizzeremo Un effetto Presente In After Effects Effetto che si chiama Eccolo qui Spettro 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 Punto Si chiama Spettro In realtà È un effetto Che ci permette Di prendere Le informazioni Di una traccia audio E anche qui Creare Uno spettro audio Visibile Ma non vi preoccupate Ne parleremo Nel prossimo video tutorial Per il momento Vi ringrazio Ricordo Questi tutorial Sono presenti Su questo canale YouTube Quindi iscrivetevi A questo canale C'è il corso integrale Chiuso Su Premiere Pro Se volete imparare Ad utilizzare Premiere Per montare i vostri video E questo invece È il corso introduttivo Ad Adobe A After Effects Dedicato a chi Non ha mai usato After Effects Quindi non troverete Cose particolarmente complesse Questi tutorial Che stiamo vedendo In questo momento Sono un po' più avanzati In preparazione Alla parte avanzata Dell'intero corso In cui parleremo Appunto di concetti Un po' più spinti Su After Effects Quindi iscrivetevi A questo canale YouTube Venite a visitarmi Sul sito internet www.fabioambrosi.it Lì articoli Di varia natura Tutorial e quant'altro Su Facebook E su Facebook C'è la pagina E mettete un like Cercate Fabio Ambrosi E lì tutte le informazioni Anche sui prossimi tutorial Prossime uscite Prossimi live E quant'altro Per il momento Vi ringrazio Grazie, grazie, grazie Commentate questi video Con domande Possibilmente Con commenti costruttivi Come dico sempre io Commenti che non servono a nessuno Non servono appunto a nessuno Quindi non fateli Ecco Possibilmente commenti costruttivi Grazie Al prossimo video tutorial Ciao Ciao